Entra nella fase operativa il fascicolo sanitario elettronico 2.0, il decreto si legge in una nota del Ministero della Salute e entrerà in vigore con la pubblicazione in gazzetta ufficiale. All'interno del fascicolo i dati identificativi ed amministrativi del cittadino, il profilo sanitario sintetico, le prescrizioni specialistiche e farmaceutiche, le cartelle cliniche e vaccinazioni, i dati delle testere per i portatori di impianto, i cittadini potranno consultare dati clinici, accedere a prestazioni di telemedicina, prenotare prestazioni sanitarie. Sarà uno strumento utile anche alle attività dei farmacisti, tra cui la distribuzione di farmaci e la verifica della terapia erogata.